L'ingresso nel Consiglio Comunale dell'Udc ci dà forza, assieme possiamo fare tanto e l'impegno non manca. Criticheremo quando ci sarà da criticare, analizzando i problemi a fondo. E' il concetto ripetito ieri durante l'incontro con la stampa dai vertici locali e provinciali dell'Udc in occasione dell'ingresso nel partito del Consigliere Comunale Giovanni Panebianco. Il segretario provinciale Angelo Bellina. Continua il processo di crescita del nostro partito, non solo nella provincia di Caltanissetta, ma soprattutto nel contesto regionale. Pare che ci danno al 10%. Frutto di tutto questo è il merito dell'ottimo lavoro che sta svolgendo il nostro leader regionale, Assessore Gianluca Miciche, che in stretta sinergia con il nostro leader nazionale, Onorevole Giampiero D'Alia, che si raccorda sempre con la segretaria provinciale, diretta da me e dalla Presidente Oriana Mannella e dalla segretaria cittadina di Gela, di Totò in Gardona e Patrizia Comantatore, cresce in maniera sproporzionata. È un risultato importante per l'Udc questa nuova adesione del Consigliere Giovanni Panebianco. Se a pensare che l'anno scorso l'Udc non esisteva, non è stato presente alle elezioni amministrative, non sicuramente per volontà nostra, perché ci sono state le situazioni tecniche che non ci hanno consentito di presentare una nostra lista, un nostro simbolo, abbiamo lavorato silenziosamente coinvolgendo un gruppo di giovani professionisti che si sono voluti scommettere. Ebbene, due mesi fa abbiamo celebrato il nostro congresso, abbiamo eletto Salvatore in Gardona come segretario cittadino, Patrizia Comantatore come presidente, un gruppo di giovani professionisti che si stanno scommettendo e sono al servizio del partito e di conseguenza della propria città. L'Udc dunque entra in Consiglio Comunale, ma dove si collocherà? Con l'ingresso in Consiglio Comunale dell'Udc nella persona di Giovanni Panebianco non cambia niente, continua l'azione politica che ha fatto Giovanni, così come in stretta sinergia assieme al nostro commissario cittadino. Noi non saremo né con la maggioranza né con l'opposizione, noi saremo col popolo geresi, anche perché il nostro messaggio è un messaggio nuovo di fare politica, è un messaggio diverso, una politica che deve servire il popolo anziché servirsi dal popolo. E quindi essere al servizio, portare delle tematiche importanti, votarle senza difficoltà, purché siano a favore della città gelese. Se qualora questo non fosse, si opporrà in maniera costruttiva e determinata.